...4, per potenza ferme, partirà dal binario 8, invece che dal binario 5, piazza dell'Omnesi. Attenzione, per il binario 7, la città della binaria... ...4, la città della binaria... ...4, la città delle testate, passanti between the kite blinders sentiamo i mosti... ...4, la città dei mani che non si Denet con la canna e.... ... ...4 molti montelli non ti